ok questo è l'immobile immobbola non si muove ritela rigano quelli che passano quel rollerblane poi ci sono due posti autocoperti optime ombresi fossa fossa delle marianne si riempie questo ogni tanto e qua dipende dai periodi previsti per l'illicazione citofoniamo eccoci questo è bello sì è bello sì è un bel contestino piacevole l'uomo 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 questo è un benefattore questa è la villa questa villa la bassana dove però è aperta no? ci viene la gente campi là dietro qui stanno costruendo un mega carfuro cagata del genere qui entriamo nella corticella infatti che magari la signora non vuole la signora sto filmando se non vuole non la filmo questo è il giardinetto? no il giardino all'interno questo è una parte comune qua c'è il mio box ci sono i due posti auto di proprietà con la cantina coperti? nel senso che sono qua sotto nella discesa volete prima vedere? no 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 dopo li vediamo la cellulare si esce qua si esce qua si esce qua poi dall'altra parte nel caso di questa è molto bella chiudiamo